Era stato annunciato ed è arrivato, il ciclone Zor si ha provocato una mareggiata che ha letteralmente travolto alcune frazioni del litorale ibleo. Tra queste c'è la cittadina marinara di San Pieri. Ecco come si presenta questa mattina. La cena che si presenta è surreale, il lungomare colmo di pietre e sterpaglie. Brutto, brutta cosa è stata, veramente, ma veramente di piangere. Ma vi ricordate un evento simile? No, mai. Io ho 80 anni e mai una cosa leggera. Gli operai del comune sono al lavoro per cercare di ripulire il lungomare. Che non ho mai visto una cosa del genere qui a San Pieri. Lei è residente qui? Residente estiva. Siamo da tre mesi qui, però sono 35 anni che abito a San Pieri, ma non è mai successa una cosa del genere. Proprio in questo punto c'era un chioschetto che è stato letteralmente spazzato via dal mare. È crollata proprio lì, così, come se fosse fatto di ricordo. Ho parlato con delle persone, nessuno si ricorda una mareggiata così. È desolante, è triste, perché vedere tutto distrutto è triste. Questo è il molo di San Pieri, dove i pescatori lasciano le barche. Da quanto tempo ha la barca qui? Io ho? Sì. Forza che basta delle persone. Ha avuto coraggio di fare surf con questa mareggiata? Sì, vabbè, dopo che è passato un po' di tempo, da ieri, stamattina siamo venuti qui a prenderci queste belle onde. Ci siamo abbastanza divertiti. Ho paura di questi eventi così anomali, insomma, non ho mai visto una cosa del genere. Voi siete venite in vacanza? Tutte le mattine a San Pieri e stamattina è stato un trauma vedere questa cosa. In questo punto c'era un sedile ed è stato sdradicato letteralmente dall'acqua. Ha distrutto tutto, tutto, ha distrutto tutto veramente, ma veramente.